agli uomini in legge piace molto mettermi in mostra una volta uscito sul giornale il gangster al capelli visto il ristorante chef vito con una formosa bionda quella ero io per tutta la vita ho sempre sognato di avere un numero di varietà tutto mio ma no mi hanno sempre scartato io tutto un vasto mondo pieno di no e così ho incontrato emos meschino rassicurante dolce emos che non dice mai di no sentite non l'ho mai fatto prima ma ma voi siete un pubblico così straordinario che io che io sento veramente di poter parlare con voi perciò dimenticate ciò che avete letto sul giornale dimenticate ciò che avete visto alla radio perché io vi dirò la verità non che la verità importi veramente però io io ve la dico lo stesso nel reparto letto emos meschino erano zero insomma quando facevamo l'amore insieme sembrava che stesse riparando un carburatore così ti amo coca ti amo coca ti amo e così ho cominciato a spassarmela in giro poi ho cominciato a passarla in giro che che sarebbe spassarsela senza invita a cena e così ho rinunciato tutta l'idea del varietà perché a un certo punto te ne devi rendere conto dopo tutti questi anni non avrei più occasione ma no 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 adesso se questa boccatuccia da quattro soldi mi tira fuori di prigione a me si apre un mondo pieno di sì